hola a tutti benvenuti o bentornati nel canale eccomi come promesso e quindi parliamo nuovamente di kiko ma della nuovissima capsule collection che come avrete letto dal titolo questa collezione si chiama energy shake che è una collezione dedicata alle donne grintose ed energiche e che soprattutto fanno workout quindi si allenano i packaging molto bello dal design innovativo eccole qui queste sono le due colorazioni di questa collezione abbiamo da un lato una lilla e dall'altro invece un verde che vira più a un verde tiffany quindi i packaging molto belli dal design innovativo sicuramente e dai toni vibranti che ispira freschezza e vitalità vi mostro dei pack primari troviamo appunto questo è in lilla mentre invece ci sono anche in verde tipo la terra le palette occhi se non erro sono in verde questo invece ad esempio è il blush troviamo questo effetto satinato ma con delle diciamo bollicine d'acqua ecco che va a richiamare come di un prodotto tra virgolette bagnato no e che si sentono sotto pelle molto molto carino e questa volta troviamo questa forma inedita quadrata che se non erro kiko da almeno da quando acquisto io questo il brand non ha mai fatto un pack quadrato invece nel rossetto in stick troviamo invece stesse effetto diciamo bagnato ma nella tonalità comunque colorazione argentata e quindi ci sono anche dei pack con l'argento infatti tutti vedete anche le scritte eccetera i dettagli sono in argento e i pack con fatti in polvere hanno stavolta lo specchietto e si tratta pur sempre anche lei di una collezione con formule prettamente vegane e infatti il brand dice dal sito formule vegane con elevate performance long lasting e idratanti arricchite con ingredienti dalle proprietà energizzanti come l'estratto di semi di caffè e estratto di ginseng e vitamina c texture ricche super sensoriali e dall'intenso rilascio colore infuse con profumo di vaniglia e fiori di arancio quindi questa collezione promette tutte queste grandi cose interaga adesso prima di continuare quindi vi cito un po parlandovi anche delle cose come sempre che non ho acquistato vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella lasciatemi dei like se queste presentazioni mie del canale nel mio canale continuano a piacervi e se vi va lasciate un commentino inoltre come sempre acquistando tre prodotti della nuova collezione Kiko regala di solito le trousse ma questa volta invece regala un sacco appunto per l'allenamento in questo bel colore tiffany e grigio che io questa accoppiata di colori la amo tanto ed effettivamente non so li vedo dei colori adatti per lo sport non lo so il grigio soprattutto vedo un colore super da sport comunque arriva diciamo imbustata e non so come farvelo vedere cerco di mostrarvelo al meglio comunque io nel mio caso ho acquistato sei prodotti quindi avrei dovuto riceverne due di questi sacchi ma è un po furbetta e quindi alla fine me ne hanno dato uno solamente e comunque ricordo per chi comunque lo volesse c'è anche sul sito al costo di 10 euro lo zainetto è fatto in questo modo devo dire anche abbastanza capiente non si chiude quindi non ha una cerniera si può portare sia a mano come insomma così oppure portato proprio come da zainetto e poi ha una piccola cerniera lì una tasca dove riporre qualcosa di piccolo non so come farvelo vedere raga cioè con una mano faccio anche fatica perché ho il telefono in mano comunque carino sicuramente non faccio sport quindi non lo utilizzerò per quel appunto per allenamento però molto utile secondo me lo utilizzerò in valigia lo porto con me per qualche viaggio se devo inserirci qualcosina tipo non so dell'intimo dei pigiami secondo me può essere molto utile comunque veniamo a noi e quindi vi presento la collezione in collezione c'è un mascara con doppio applicatore da un lato dona volume e dall'altro è allungante ed è allunga tenuta però non l'ho preso all'inizio voleva acquistarlo però non l'ho preso perché attualmente ho ben due mascara aperti e ne ho tantissimi nel cassettone di mascara quindi un altro mascara sinceramente non mi serviva poi c'è in collezione anche un eyeliner liquido con applicatore a pennellino e anch'esso allunga tenuta anche di eyeliner ne ho a bizzeffe e poi un mascara colorato fissante per sopracciglia contenuta fino a 10 ore uscito in sole tre colorazioni però io recentemente ho aperto questo qui sempre di kiko della collezione blossoming beauty e appunto dove c'è anche sia matita che mascara io utilizzo il mascara quindi un altro mascara sinceramente non mi serviva e poi di mascara è uscito anche quello in versione trasparente fissante per sopracciglia la texture in gel rende le sopracciglia morbide e disciplinate poi di unico prodotto skin care che non ho acquistato è la maschera viso illuminante con vitamina c ed estratto di ginseng la texture super soffice dona una sensazione di comfort è facile da applicare e non scivola via si tratta di una maschera molto carina secondo me perché di un colore lilla violaceo per chi ama il viola come me molto bella da vedere però ne ho troppe di maschere anche di kiko che avete visto che non ho ancora aperto e provato poi in collezione ci sono le come sempre immancabili le palette occhi ma questa volta con 5 ombretti dal finish matt è metallico il pack è fatto quadrato come questo e uscite in due nuance la 01 è calda mentre la 02 è rosata l'avrei presa ma quando ho fatto l'ordine non era ancora presente sul sito perché io questa collezione l'ho acquistata online non ho avuto ancora modo di vederla dal vivo in negozio e la 02 mi intrigava non so perché l'avrei presa ma non c'era sul sito se voi l'avete acquistata fatemi sapere come vi ci trovate se secondo voi è valida oppure no e poi sono usciti anche gli ombretti liquidi dal finish metallico e a lunga tenuta texture fresca e leggera facile da sfumare e asciuga velocemente usciti in 4 nuance molto molto poche queste nuance uscite con questa nuova collezione devo dire poi è uscito il fondotinta duo dal finish naturale con pennello incorporato si tratta di un fondo in stick cremoso texture ultra fine ad alta coprenza e un delicato finish naturale uscito in sole 6 colorazioni e questo proprio era uno di quelli che non ho preso perché proprio non mi intrigava non mi ha suscitata proprio curiosità ad essere sincera poi io non uso fondotinta in stick proprio non mi piacciono avendo già comunque una pelle mista grassa come se andrei ulteriormente ad ungere tra virgolette il mio viso quindi proprio una sensazione che a me non piace sul mio viso e forse adatto sicuramente per una pelle già normale secca poi è uscito anche il correttore idratante con applicatore in spugna texture delicata e vellutata dal finish luminoso che idrata la pelle regalando una sensazione di comfort coprenza leggera e il risultato modulabile usciti in sole 3 colorazioni questo correttore è praticamente identico anche nel packaging di quello uscito già nella collezione c'è a Ming Escape che io avevo acquistato a suo tempo ma poi recentemente ho declatterato perché il PAO era andato ormai a male e praticamente è lo stesso identico prodotto anche nelle premesse leggendo dalle info che ha dato Kiko comunque è un applicatore in spugna leggero ha una texture comunque leggera delicata che va ad illuminare non è sicuramente un correttore chi coprente poi è uscita anche una terracotta lunga tenuta fino a 10 ore texture fine dal tocco setoso regala un effetto abbronzato naturale facile da sfumare per un risultato modulabile usciti come sempre in due colorazioni questa l'avrei presa vi dico la verità sinceramente solamente per il pack perché aveva il pack in verde però poi mi son detta a spendere ulteriormente soldi quando la colorazione è sempre la stessa praticamente si enna e io già ho una terra di Kiko quella della Brossoming Beauty sinceramente non me ne serviva un'altra poi sono usciti anche gli illuminanti compatti a lunga tenuta texture setosa regala una naturale luminosità modulabile da leggero a intenso uscito in due tonalità ma le colorazioni le ho trovate un po' scurette anche la 01 che dovrebbe essere quella più chiara sinceramente è molto molto scura ma se voi avete avuto modo di sbocciarle in store o lo avete acquistata fatemi sapere se effettivamente è troppo scura oppure no poi il lip gloss e blush dal pH reagente questo è un prodotto sicuramente il più particolare nuovo perché Kiko non ha mai fatto uscire in una collezione questa tipologia di prodotto è un prodotto che a contatto con il pH della pelle i suoi pigmenti donano alle labbra e alle guancia perché è un prodotto appunto duo da utilizzare sia su labbra che sulle guancia e dona una tonalità rosata su misura dal finish luminoso la fresca texture in gel offre un comfort estremo particolare come prodotto però a mio parere a me non piace una questione di gusti non mi piace questa tipologia di prodotto a pH con la pelle perché spesso la tonalità è sempre rosata quindi alla fine la tonalità è sempre quella su tutti poi è uscito anche il pennello kabuki retrattile morbido e soffice per viso e corpo le setole sono morbide e fitte in setole sintetiche ideale da portare sempre con sé per i ritocchi on the go e infine l'ultimo prodotto che non ho acquistato è il bassamo labbra colorato idratante dal finish luminoso texture colorata all'aroma di vaniglia scivola sulle labbra e dona un'idratazione immediata e un effetto levigante usciti in quattro colorazioni ma non me la sono sentita di acquistarlo sinceramente perché uno ho troppi lip balm comunque idratanti e due a un packaging tipo per farvi vedere insomma tipo questo fatto in tubetto sai i famosi lip gloss quasi anni 2000 e io non utilizzo comunque bassa mio lip gloss di questo pack e quindi sinceramente ho preferito schippare e adesso veniamo a noi invece con i prodotti i sei prodotti che io ho deciso di acquistare partiamo proprio dal burro detergente struccante per viso e contorno occhi arricchito con olio di semi di caffè questo è il pack molto easy un barattolone da 30 grammi ha una scadenza di 18 mesi e il pack appunto è il tappo in argento satinato e questo l'ho usato, l'ho utilizzato proprio ieri poi ve ne parlerò meglio comunque come sempre non manca mai nel canale anche un video recensione la profumazione si sente tantissimo raga di caffè ma è un caffè molto molto delicato e io mamma mia io adoro il caffè tantissimo io almeno una volta al giorno lo devo prendere il caffè lo prendo tutte le mattine sono una caffettara, sono diventata e mi piace troppo la profumazione delicata ma comunque si sente che è caffè adoro, adoro già comunque texture super morbida rimuove con delicatezza ogni traccia di trucco lasciando l'incarnato morbido ed adatto a tutti i tipi di pelle poi ho acquistato la matita occhi e eyeliner e cajal arricchita con estratto di ginseng texture scorrevole e cremosa dal rilascio colore intenso e può essere usata utilizzata all'interno e all'esterno della rima dell'occhio grazie al pratico applicatore in spugna integrato sul fondo si sfuma con estrema facilità uscite in quattro tonalità ma io ho acquistato la 03 che è la tonalità verde packaging molto super easy somiglia tantissimo a quelle famose della linea permanente che avete visto e rivisto sempre nel canale e questa è la tonalità è di un bel verde bosco però non mi sembra una tonalità matte è leggermente satinata poi ho acquistato il rossetto in stilo dal finish matte il pack ve l'ho già mostrato prima è carino anche se devo dire rispetto al blush è molto più leggero sembra più tra virgolette cheap e comunque arricchito con estratto di ginseng texture vellutata profumata con delicate note di fiori d'arancio si la profumazione è molto presente e si fonde con le labbra per una sensazione di comfort estremo super coprente già dalla prima passata regala un colore pieno uscito in sé nuance che dal sito non mi entusiasmavano a dire la verità tanto perché il nude lo vedevo troppo chiaro quelli più intensi virano al rossiccio per cui la mia scelta poi è caduta sulla nuance 03 che si chiama Fiat with Move che appunto è un malva più intenso e ad essere sincera alla fine comunque ho voluto prendere una colorazione ma più che altro per il pack poi veniamo al blush viso compatto a lunga tenuta fino a 10 ore dietro è sempre diciamo semplicissimo possiede all'interno come vi ho detto prima uno specchietto anche il pan molto carino sembra di insomma delle bollicine sott'acqua sembra proprio che vada a ricreare quel tipo di situazione molto bella anche la cialda devo dire arricchito con olio di semi di caffè e texture vellutata dal tocco setoso facile da sfumare per un risultato da leggero a intenso profumato con delicate note di fiori d'arancio nella formula è presente l'olio di caffè ma raga nella texture insomma nella ma di questa profumazione non si sente affatto di caffè invece si sente tantissimo la profumazione di fiori d'arancio e non è per nulla delicata perché vi assicuro perché l'ho provato già ieri sia il blush che anche la matita e non sono d'accordo tantissimo con il brand per cui se soffrite di emicrania o vi danno fastidio le profumazioni forti questo prodotto non sarà un top per voi comunque è uscito in tre nuance e tutte tonalità rosate per cui sono uscita dalla mia comfort zone e ho preso la tonalità rosata più accesa e ossia la 02 perfect balance che poi alla fine però vi devo dire tutta questa tonalità accesa non non è nemmeno poi più di tanto certo vi deve piacere la tonalità poi penultimo prodotto che ho acquistato sono questi patch occhi monouso nutrienti e illuminanti per il contorno occhi il pack è fatto in verde tiffany con il solito tappo come quello come il burro struccante e questo pack secondo me è riciclabile e si può anche riutilizzare benissimamente comunque sono arricchiti con estratto di semi di caffè ma anche di questi non si sente la profumazione di caffè il pack è fatto così c'è questo cosino per andare a prelevare senza toccare a mani nude insomma o contagiare comunque il siero e i patch sono fatti in questo modo e non li ho ancora provati quindi li testerò per voi e la texture in hydrogel aderisce perfettamente sulla zona occhi per una sensazione di benessere immediato fresche e leggere nutrono la pelle donandole un aspetto radioso senza ungere la confezione contiene 30 pratiche maschere monouso di questi patch sono super curiosa di provare perché mi servivano proprio stessa cosa anche con il burro struccante è un prodotto che si sta utilizzando tantissimo soprattutto su web e non avevo un burro e quindi mi sono fiondata mi serviva appena ho visto che in questa collezione comunque c'era subito mi sono fiondata e anche sui patch perché io stavo utilizzando quelli acquistati su pink panda se vi ricordate un po' un botto di tempo fa di maiani però adesso è sincera quelli non mi piacciono e sono un po' troppo sono diciamo così ecco non sono molto dedicati per il mio contorno occhi non mi stanno piacendo quindi cercavo altri patch occhi quindi spero proprio che questi mi piacciano comunque e infine l'ultimo prodotto che ho acquistato anche questo si tratta di skin care perché si tratta di una mascherina occhi doppio effetto sia fresco che caldo di questa anche mi serviva assolutamente io avevo acquistato tanto tempo fa una da oddio da tiger si però si è uccisa si è suicidata da sola nel frigo un giorno andò a prendere ed era super secca però non aveva queste perle in gel ma aveva tipo di glitter delle paillettes e quindi era molto più insomma blanda come mascherina mi serviva assolutamente quindi ho visto che dal sito c'era questa subito l'ho messa nel carrello comunque una texture con perle in gel che può essere usata fredda con effetto antifatica che è il modo in cui io utilizzo questa queste mascherine ma la si può utilizzare anche da questo lato tiepida per un effetto rilassante ha una forma ergonomica perché comunque si chiude comunque questo elastico vedete molto comunque ergonomica che si adatta al viso e si chiude con lo strappo fatta bene devo dire la verità cucitura abbastanza bene si vede che comunque non è una cosa cheap fatta super bene e dietro lo scatolo c'è anche insomma come poterla utilizzare numero uno per l'effetto fresco antifatica mettere in frigorifero per almeno 30 minuti prima dell'uso oppure il secondo effetto caldo rilassante mettere in microonde a 700 watt per 10 secondi non surriscaldare se surriscaldato non utilizzare su pelle e quindi c'è scritto anche il modo d'uso molto carina mi piace un sacco anche in questo colore tiffany molto molto carina non vedo l'ora anche lei di provarla e niente raga questa è stata la mia carrellata di acquisti e quindi anche questa presentazione di questa capsule collection questa capsule è carina ha inserito molti prodotti skin care che questa volta infatti ho deciso di acquistare mi sono data più alla skin care dato anche dal fatto che comunque prodotti che mi servivano e i pack sono una novità sono innovativi e belli e questo lo riconosco che il brand ha fatto un ottimo lavoro per i pack però le colorazioni sono da rivedere perché ne sono poche e soprattutto scure adatte più per una collezione estiva piuttosto che una collezione che vira all'autunno inverno e vedo sempre delle ripetività soprattutto per le palette occhi e le tonalità dei blush e voi cosa ne pensate fatemi sapere la vostra nei commenti io vi mando un grosso bacio a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao ciao Ciao